Oggi tutti i lavoratori di Telecom sono in sciopero, otto ore in sciopero generale in tutta Italia con due manifestazioni nelle piazze di Roma e Milano. Scioperiamo perché questa azienda da quando è arrivata non ha fatto altro che applicare azioni unilaterali evitando il discorso e la discussione con i sindacati in ogni momento. Ha applicato la disdetta del contratto aziendale e sta attualmente applicando un regolamento aziendale unilaterale che vorrebbe essere un sostitutivo del contratto di secondo livello. Un atto grave senza precedenti nella storia di questa azienda.